Questo è un cambiamento strategico e anche storico, perché trasferiamo le competenze del verde dal comune all'asete, potenziando il budget di altri 300.000 euro. Questo cambiamento viene fatto perché il comune nella gestione aveva già una situazione di sovraccarico di tutti i vari uffici, specialmente i lavori pubblici, in funzione di tutti i vari cantieri e progetti che sono in essere e che ci saranno anche in futuro. E quindi abbiamo individuato in Asia, dopo la fusione, il soggetto ideale al quale trasferire le competenze. E quindi potenziando mezzi e strutture sicuramente si ha un risultato migliore. E questo è uno di quegli obiettivi che l'amministrazione si era sempre posta come finalità per ridare a Fano una qualità del verde e del decoro urbano che merita Fano una bella città e quindi come tale deve essere ben gestita. Ci saranno anche delle novità. Nella gestione sarà introdotta una green zone che identifica nell'area centro mare, quindi quella a più alta rilevanza turistica, la zona in cui l'asete avrà le competenze totali. In passato succedeva spesso che magari si tagliava l'erba su un prato e nella strada a fianco rimanevano l'erba alta perché erano due competenze. Con questo nuovo assetto questo problema qui è risolto. Ci sarà a disposizione anche un numero verde per i cittadini che potranno segnalare eventuali criticità e rimarrà invece, ci tengo a dirlo, invariato il rapporto tra il Comune e le varie associazioni che operano sul territorio. Perché questo sicuramente è una buona pratica che intendiamo valorizzare e potenziare e ringraziamo anche le stazioni che operano in questo modo perché aiutano il Comune e aiutano anche le casse comunali. E quindi questa è una soluzione alla quale approdiamo dopo un po' di tempo, però è un bel regalo di Natale per la città e per i cittadini perché tutti sono contenti di vivere in una città ben tenuta.